Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci in questa entusiasmante storia, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche per non perdere le nostre prossime pubblicazioni. E se vi piace ciò che facciamo, lasciate un mi piace, vi saremo davvero grati. Oggi vogliamo condividere con voi una storia toccante, quella di Eleonora Giorgi. Solo due settimane fa, durante una diretta televisiva di Pomeriggio 5, Eleonora ha rivelato di essere affetta da un tumore al pancreas, lasciando il pubblico e i fan in uno stato di sciocca e preoccupazione. La sua lotta contro questa grave malattia è diventata un argomento di grande interesse nazionale. In una recente intervista su Rai Radio 2, Eleonora ha aperto il suo cuore, raccontando il suo percorso e la sua esperienza con la chemioterapia. Nonostante la sfida che questa malattia rappresenta, la sua forza e la sua determinazione sono un esempio per tutti. È impressionante come, nonostante sessioni lunghe e impegnative di trattamento, non abbia manifestato effetti collaterali significativi. Da quando aveva 19 anni, la vita di Eleonora è stata sotto i riflettori. La sua decisione di condividere pubblicamente la sua battaglia è motivata dalla speranza di ispirare e confortare chi si trova in situazioni simili. Ha ricevuto un'enorme ondata di amore e incoraggiamento dal pubblico, un sostegno che senza dubbio le dà forza in questo difficile momento. Ciò che è particolarmente toccante in questa storia è come Eleonora ha trasformato una situazione personale difficile in una fonte di ispirazione per gli altri. Molti medici hanno suggerito che il suo esempio potrebbe essere di grande incoraggiamento per chi sta vivendo esperienze simili. Ora vogliamo sapere da voi cosa ne pensate di questa incredibile storia di coraggio e determinazione. La vostra opinione è molto importante per noi, quindi per favore, scrivete i vostri pensieri nei commenti qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi per rimanere aggiornati sulle ultime notizie. Grazie per averci seguito. A presto!